Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua sempre in compagnia di Elisa per un nuovo episodio di Disperso in Fallout che non è Disperso in Fallout perché stiamo facendo Automatron che non è, vedi? Allora, ricominciamo Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo episodio di Automatron il nuovo DLC di Fallout 4 sempre in compagnia di Elisa e dobbiamo fondamentalmente seguire ciò che ci aveva detto la cara Ada che sembra sempre abbastanza problematica come persona come robottino per cui vedi un attimo sulla mappa se è in zona raggiungibile facilmente o se tocca prende ma no, andiamo a piedi andiamo a piedi? si, sta qui allora, io tra l'altro mentre vi digeriamo un pochino si, digeriamo un po' visto che per una volta stiamo registrando dopo scena cosa che non facciamo mai e tra l'altro appunto ho messo a posto tutto nel mentre mi sono ripulito di tutto quello che dovevo ripulirmi ho potenziato un po' gli equipaggiamenti perché insomma volevo evitare di vivere il dramma che abbiamo vissuto l'ultima volta io tra l'altro mi sono incastrato dove tocca passare? navigatore? sono io? eh, saresti tu in teoria eh, ci sono un po' dei palazzi eh, vado di qua oddio mio il bagneto tutto dritto da sinistra si apre? si tutto dritto? vai, tutto dritto oddio ma basta cioè no, un po' più a destra a destra eccoci, eccoci 90 metri si, si io lo so frequenza niente, tutti in faccia i venti cancelli c'è verso ma perché lagga così stasera il gioco? tra l'altro senza motivo visto che non è un gioco che gioca online allora allora qua ci stanno ancora i myrloach io mi rifiuto mi ho ammazzati troppi nella mia vita oh madonna il tank bot addirittura niente, qua finisce malissimo ma malissimo ma intanto c'è uno che ci sta che cosa è successo? che cosa è successo? ma c'è la vita al massimo è con una spadata si vabbè ma santo cielo però direi che non è fattibile con la sua potente spada di fuoco mi ha mi ha penetrato violentemente mi ha penetrato il corpo bene ci hanno fatto ricominciare da capo sono contento allora io direi a questo punto ragazzi siccome la situazione lo richiede dite addio alla giacca dei gatti atomici perché tocca prendere roba più seria devo dire a fuori il mio equipaggiamento tosto anche perché toco tosto toco tosto anche perché cambiando diciamo nome la serie e DLC è carino anche cambiare l'abito sì sì però io speravo di fare cose un po' più cioè che fosse un filo più fattibile adesso io non voglio arrivare al punto di prendere l'armatura atomica perché sarebbe un po' troppo cioè non voglio semplificarmelo troppo però santo cielo sto a livello 60 e carisma e intelligenza questo che no questo già ce l'avevamo buono è l'unica cosa decente che avevamo agilità e percezione carisma e intelligenza torace intanto diventeremo bruttissimi adesso che sto per torace sintetico no questo qua l'abbiamo già addosso riduzione punti spav va bene gamba destra ok quindi tutto il resto si può rimettere a posto adesso vedrete quanto siamo diventati brutti come per incanto no quindi adesso siamo tornati in condizioni pietose perché sembriamo sembriamo un brutto cosplay di coso di di star wars di quindi a 4 lire vabbè detto questo io direi che possiamo tornare dove eravamo e mo voglio vedere se i vari robottini riescono a farmi qualcosa allora si diceva stiamo a 50 metri per cui dovremmo esserci praticamente io non voglio rimorire posso non rimorire santo cielo sarebbero bot quantico addirittura ma cosa sta sparando l'inferno aiuto non ti avvicinare non ti avvicinare ok mamma mia aiuto aia quello che mi aveva ammazzato prima cerchiamo di fare di sopravvivere a questo momento drammatico mamma mia via 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 che questo esplode no ma ada c'è io pensavo che non ci fosse ma chi è è mezza rotta ma chi ma cosa c'entrate voi ma cosa c'entrate il predone ma io già c'ho da facco 6.000 robot no ma sarà ora che è ridotta molto bene ma sta giusta la sola perché sotto terra vabbè vediamo questo è il piano di sotto c'è c'è un piano di sotto forse entrano sono diventato cacciatore di robot colono ma questa non è cricket quella che vendeva infatti chi è che l'ha fatta fuori mi sa il robot io non so come scendere guardo la mappa oddio ma che cosa vogliono questi chi siete niente vabbè come non detto secondo me si è buggato ed è passato sotto alla alla cosa posso dire la sincera verità secondo me che il nemico si è smaterializzato perché a me non mi sembra di vedere dici non boh perché infatti se fosse un piano terra di un qualche posto doveva farci entrare e cioè il nemico all'improvviso scompare non ce la voglio credere vedi dov'è perché ti sei incastrato nell'ambientazione fermi tutti che hai rispuntato fuori adesso vola eccolo eccolo aiuto sono riuscito a farlo riuscire fuori girando intorno alla casa non so bene come ma meglio così segnalatore rata allora c'è la diffusione e cerebro bot cigoli cingoli che cigoli quindi sei veramente un genio sono stato fortunato più che genio allora basta basta si guarda basta non te posso più vedere no vabbè ma che veramente Ada possiamo andare a casa ti prego Ada io devo assolutamente uscire col Fatman la prossima volta la prossima volta che capitiamo a casa me lo prendo niente non muore non muore bene ok cara la Miada dove sei allora parliamo un segnalatore radar un po' ammaccato ancora funzionante andrà benissimo e con un po' di fortuna ci aiuterà a rintracciare il meccanista funzionerà vedrai che funzionerà lo spero davvero avvierò la procedura di decifrazione ma potrebbe richiedere tempo intanto ho rilevato un nuovo segnale da un altro cerebro bot dovrebbe essere l'ultimo che ci serve andiamoci ottimo lavoro Ada grazie se i miei calcoli sono esatti il segnale proviene da non mi piace luogo confermato il cerebro bot è alla stazione satellitare di Fort Hagen il che significa nelle mani dei Rust Devil bene chi o cosa sono i Rust Devil lasci che le spieghi la mia vecchia caravana li ha incontrati una volta mentre attraversavamo il fiume verso la città i Rust Devil sono predoni spietati che usano i robot per le loro scorribande battono il Commonwealth alla ricerca di quelli come me se non riescono a programmarli li smontano per ricavarci pezzi di ricambio forse sono una minaccia più per me che per lei è giusto che lei abbia tutte le informazioni detto questo a prescindere da cosa ci aspetta posso continuare a decifrare il segnale lungo la strada partiamo io farei un attimo una capatina a casa però allora ho potenziato un po' la nostra amica Ada e ho preso il Fatman per cui adesso direi che siccome mi sembra un ottimo momento per utilizzare il nostro amico Fatman signori e signori ho sbagliato ovviamente il tasto flagello leggendario bene che bello è che non gli farò una mazza lo sai vero perché questi sono robot io ho preso il Fatman solamente per fare scena alla fin fine no l'ho fatto fuori pensavo che non sarebbe servito a granché bene direi che doppia arma perché quello è slow direi che ho fatto un'entrata in scena da film proprio bene salve a tutti sono arrivato eccoci direi che ci siamo presentati alla grande un debutto di quelli fatti bene vabbè adesso carisma intelligenza ok un po' di roba onestamente dopo aver affrontato cani e porci in questo gioco della torretta metallatrice mk1 me ne frega poco oh manco un colpo ce ne vuole è passato diretto alla mitraglia vedi Ada come se la spinge con i due laser in più carina è usata salve addio bene è la tua fine mi hai sentito eee dov'è ah è minicizzato il bastardo bene devo dire che qua eh no io sto cercando di di prendere un po' di pezzi visto che siamo entrati tipo will smith in bad boys e volevo fare un attimo una cosa un po' più è volata sono volate persone ovunque allora come dovrebbe esserci un terminale il terminale sta lassù allora tocca far giro allora non devo cadere non devo cadere terminale terminale tappo munizioni adesso te lo puoi pure tenere fissimo sto ponticello così allora comando di porta di sicurezza apri tutto apri tutto bene pronti ah la botola l'hangar di fortagen che poi tra l'altro la domanda fondamentale da fare in questo momento ma il meccanista dopo fallout 3 ma qua come ci è arrivato soprattutto perché si accolla questa è la domanda principe di tutta la serie di Automatron si è teletrasportato no ha camminato parecchio ha camminato parecchio e soprattutto non si è ben capito per quale motivo è diventato così cattivo visto che non necessariamente doveva esserlo per cui sarà interessante vedere lo sviluppo narrativo allora allora eh allora fermi tutti facciamo le cose con molta calma allora qua ci arriveremo tornando disattivato il totem mister Andy demolitore sono tutti leggendari bene mister Andy annientatore leggendario questo mena come un fabbro vabbè il nemico leggendario è mutato bene andiamo di critico su basta un po' niente la potenza dei miei critici è ridicola l'ilmo da dai bot credo ma vedi no non morire ma tra l'altro è esploso dopo tre quarti d'ora mamma mia vabbè bastone beh ma che arma è il bastone col gommino pure alla fine cioè bah quello di papà gamba lunga il cartone che c'era quando eravamo bambini carino ma quanti siete tipo il casco di quello ma già aiuto fa collano ho finito le munizioni bene è un ottimo momento per finire le munizioni ma di partman no no che vado si è fatto qua qua famo una finaccia se vado di fatto esplodiamo tutti perché non è morto si ha fatto l'inquadratura figa la matrix vabbè io volevo andare a vedere un attimino l'elmo di quello in effetti casco da soltron carino ah no il casco da soltron torace da robot vabbè ma ma vi prego ma scusate tra l'altro è poco meno forte del mio io voglio questo cioè a livello di difesa perché non posso più guardarmi oh perché non si chiude forse quando combatto ma che figata si chiude quando tiro fuori l'arma vabbè io ho trovato il mio casco per la vita molto carino ho trovato il casco per la vita devo trovare uno specchio per farvelo vedere per bene l'effetto all'ultima moda addio non puoi morire razdevil boom questo madonna che colpo sto manichino gli hanno messo pure l'elmo si l'elmo stavi dicendo si gli hanno messo pure l'elmo ma cos'è che fa luce sopra boh eeeh 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 e ma io bella mossa ma io non la voglio prendere diventa tutto troppo semplice vero impegniamola per riandar via e te te la ricorderai io no me la ricordo me la scrivo fantastico dove eeeh eeeh la domanda però sorge spontanea ah ecco aspettate un attimo tappo cartuccia munizioni granata modulo sensore che ci può servire qua non sembra esserci nulla io sto sempre in cerca di statuette riviste varie ma non me sa che qua non c'è qua sicuramente c'è un nucleo ne ho mille mila però sono sempre comodo può sempre servire ho aperto quella difficile la prima botta no no c'è una mazza bello eeeh vabbè come non detto dobbiamo trovare questo cerebro bot allora allora qua è al piano di sopra oppure no sto sbagliando completamente strada allora madonna mia la gente ah cab ibot cyber meccanico ma che posto è mi sono capiti mi sono infatti aspetta un attimo che stanno dentro una gabbia mamma mia bello ma che cosa parla con jezebel ma liberiamo liberiamone uno anzi aspetta scusa siccome io non so come si comporterà una volta che apro prima diamo un'occhiata prima diamo un'occhiata a questo che ti è successo che cosa ti hanno fatto i rasti devil evidentemente hanno ritenuto utile mantenere operativa la mia testa per mia fortuna sono abbastanza stupidi da credere a tutto quello che dico non che ci abbia ricavato granché ma se non altro ho evitato la sorte destinata ad altri miei sfortunati colleghi come puoi dedurre dai pezzi che vedi qui attorno torniamo alla prima domanda che cosa ci fai qui? segnalatore radar cerco un segnalatore radar un segnalatore radar interessante è un componente molto particolare e tu non sembri il tipico saccheggiatore secondo i miei calcoli al 98,8% stai cercando il meccanista se così fosse e io non sbaglio quasi mai allora potremmo trovare una specie di accordo perché no? come posso aiutare? e come potrei aiutarti? vedo che hai voglia di ascoltare bene interiorizzerò questa tua inclinazione mentre ti spiego l'accordo ora come posso spiegartelo secondando le tue capacità spiegale basta ti porto volentieri a casa nostra si può decisamente fare affare fattissimo si vuoi fare fattissimo quindi una volta giunti a destinazione ti cederò il mio segnalatore radar in segno di buona fede ora ti consiglio caldamente di non indugiare oltre in un luogo così ostile e di farci uscire da qui bene prendi Jezebel esci da dall'hangard oh porco giuda vedete che avevo fatto bene mamma mia sta per succedere l'inferno questo agab mina come un fabbro io voglio i suoi pezzi per cui non me ne vado senza di lui preparati a curare perché questo ci sta per uccidere porcaccio giuda porco porcaccio giuda questo lancia le palle di fuoco oh porco giuda via 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 allora non è il caso di aspettare altri orribili gustos mamma mia calma c'è la diffusione sentinella casco di agab tanta roba intanto non credo sia per noi questo ma per eventuali robot allora fatto questo io posso liberare gli altri robot è la come si chiama il nastro del meccanista si accolla poco mamma mia aghera incita io me lo volevo portare a casa vabbè voglio dire se riusciamo a portarci via qualcosa di figo da qua perché c'è semplicemente uscire tanto per qua c'è un terminale poi scommette selezionare un elemento cervello il cervello non parla allora fatelo parlare rompete il vetro e ficcateci dentro le mani se necessario ovviamente dipende tutto dal cervello dentro ci deve essere qualche segnale nascosto che può aiutarci a trovare questo meccanista vi do tempo fino a domani poi darò il lavoro a qualcun altro questo qualcun altro sarà contento voi no fatelo e basta firmato Ivy ibot abbiamo il cervello e possiamo risuggire l'ibot non ne posso più dei suoi messaggi sul meccanista portare la pace nel Commonwealth stronzate ho qualche idea su come effettuare qualche modifica interessante a questo coso lo voglio smontato per domani scusate progetti bene vabbè io ripeto in tutto ciò io come esco attenzione ai capi di innesco vorrei stare ecco l'uscita scusa ma sti capi di innesco dove stanno questo si muove ma io non vedo il cavo vieni a salvare un'acqua si buona idea vabbè sembra sembra tutta ahhh il robot demoniaco circuito sega tappo terminale di gioco rust devil dai leggere qui a chi ha zero i punteggi ti troverò e ti staccherò la testa fino a quando il coppiovole non si farà vivo questo terminale non deve essere usato vabbè non deve usare nessuno punteggi riproduci nastro che cos'è ah un nuovo gioco come sparo ma ti prego ma che spettacolo il panico più totale aiuto hai fatto 5 6.000 punti aiuto ho perso no ondata 3 tutto mi aspettavo tranne che succedesse questo nel gioco il bello è che a fianco a noi sta succedendo l'inferno infatti roba che esplode ondata 4 ah aiuto che vuoi rimanere fermo e girare ecco no no sto facendo calma e sangue freddo calma e sangue freddo delirio delirio bene ondata 5 a crearmi ah vabbè questi sparano lanciano fanno tutto quello che si può fa aiuto aiuto ci stanno pure i cosi mi sa che quelli sono buoni dici mamma mia delirio più totale vabbè ma che se vince infatti niente vabbè ondata 6 gioca ancora no direi yes carino se me lo posso portare si bene si me lo so portato via da paura una cassaforte tra l'altro stiamo facendo tutto tranne combattere con quelli che ci stanno a fianco li stiamo ignorando volutamente volutamente bene ma dove stanno tra l'altro ti piacciono le cose difficili vero in realtà no vorrei semplicemente andarmene a casa oh porco il diablo il diablo mamma mia aiuto perché non sto facendo nulla vabbè 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 allora mamma mia sta per esplodere tutto tutto l'esplodibile intanto facciamo fare la data vabbè vabbè resistenza al veleno non ci faccio veramente niente nulla cosmico scanner biometrico tanto che ha lasciato a fare io darei un'occhiatina qua dentro terminale di ivy così capiamo un posto ivy chi è dove sta soprattutto meccanista chi è questo meccanista i suoi maledetti robot sono ovunque discariche fabbriche perfino il parco dei pionieri della robotica come possiamo recuperare parti per i nostri robot quando in giro ci sono questi spazzini metallici questo non significa non reagire ma insomma uccidiamo 10 dei suoi robot e ne arrivano altrettanti non avrà una linea di assemblaggio vero trovarlo è la nostra priorità cos'altro possiamo fare visto che continua a metterci i bastoni tra le ruote ciao tutti i torti lo troveremo e con le sue ossa ci faremo un robot che porta fuori la spazzatura poraccio disasso di Pinder Park era la classica missione di recupero raggiungere il posto prendere i 4 protractron e filare facile i ricognitori avevano segnalato la presenza di un deathclaw in zona conoscendo i nostri robot non era più pericoloso di un ratto talpa alla fine siamo riusciti a entrare senza neanche svegliare la bestia ce ne stavamo per uscire e arriva un'orda di robot del meccanista che cominciano ad attaccarci perché vuole il nostro bottino siccome l'universo ha uno strano senso dell'umorismo il deathclaw si sveglia e così c'è anche lui da gestire alla fine abbiamo perso 3 uomini e 2 robot ma siamo riusciti a catturare un robot del meccanista ancora funzionante speriamoci porti dal bastardo che si diverte tanto a romperci le palle akab il deathclaw che ha ucciso i miei uomini ho fissato il suo teschio sul robot non un robot qualsiasi ma il robot devastatore definitivo akab sarà al mio fianco quando troverò il meccanista e mi vindicherò per quello che ha fatto iras devil spero solo di non polverizzare le sue ossa mi piacerebbe usarle per qualcosa di divertente vabbè il suo akab non è quello che abbiamo distrutto prima eh infatti e mi sa che sto akab non era tutto sto granché detto questo a chi stai sparando stavo che si stesse ribellando al padrone come fate a uscire ma dove sta sta gente è tanto bella sta pistola ma il fatto che deve ricaricarmi ogni tre secondi non c'erano mai no ok meno male che c'è una mira brutta vabbè ma tutti mi dicono sempre che c'ho una mira pessima no ma ho una mira pessima solamente ogni tanto qualche qualche colpo viene anche a me eeeh dunque dunque e l'altro sto sto raccogliendo pezzi di robot come se non ci fosse un domani chissà cosa riuscirò a a a a tirare fuori eeeh terminare di comando di Fort Hagen oddio oh no come si vede grande muscle niente spaced vabbè allora è placed se qua era 4 comandi della torretta ma no la torretta ma chi se ne frega della torretta io speravo che fosse quello per per farmi uscire tappo munizioni qua c'è il nulla cosmico assolutamente niente da raccogliere qui niente qui niente scusate un attimo io sono c'è sempre paura di perdermi qualcosa di particolarmente figo e allora tendo ad essere un pochino eeeh scrupoloso un po' rompipalle nell'esplorazione c'è la sicurezza ci fate uscire scando alla mia limitata esperienza con te direi che abbiamo il 65% di possibilità di uscire da qui non ottimale uno sforzo maggiore potrebbe influenzare le nostre probabilità donna di poca fede anzi robot di poca fede ahia esigo che riceva lo stesso trattamento così saremo pari scansione in corso mi tocca disarmare tutto il disarmabile rilevano una forma di vita senziente livello di allerta aumenta oh porco giuda maledetto aiuto no ce l'ho non ce l'ho stimpaccami oh porco giuda porco ti prego spara occhio che esplode voi ti prego via 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 sta per esplodere no no ma come si avvi ma è una tipa viva si capisce no mi sa che è tipo ada o no boh vabbè quella luce non si sape ma non sta prendendo mezza volta però allora oh falco su niente penso sia per l'armatura che ha comunque no penso sia che ci abbiamo una mira di merda quando facciamo il coso automatico per cui mi tocca non mi sta facendo niente tra l'altro è normale penso sia la bissecca di death che ci ha dato bene arrivederci se avessi avuto un corpo l'avrai uccisa personalmente beh in un modo o nell'altro ottimo lavoro uscire tesla e mette una scala che si trasmette da avversario avversario fighissimo ma vieni lo voglio steampack e c'ha madonna mia c'ha c'ha un'armatura t60 spettacolare ma io non me la potrò mai portare via diamo le cose dada no ma pesa troppo in assoluto quanto pesa un pezzo ma io quasi quasi mi porto via solamente quelle con la stellina se li potessi staccare vabbè prendiamo bene ada vieni qua che mi servi ehi mercia acchiappa 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 casco comando cappello tenente casco da robu sentinela questa è una figata acchiappa da sola la sentinela vabbè questi non ci servono direi per il momento questi pezzi del t60 così io non mi devo preoccupare d'altro bene si diceva banco da lavoro per armi qua non ci interessa si beh questa non c'ha una rivista una statuina una statuina proprio no solo la solo la gioca tutti con la gioca munizioni valbola termoenoica vabbè non ci arrega niente via che c'è qua inclusisce una cifra vedere che tipo di armi riusciremo a mini nuke mini nuke il fatto ma vabbè ce l'ho è inutile che lo prendo manca a farlo apposta qua tanta altra roba munizioni ci stanno delle munizioni le voglio munizioni questo è morto male mamma mia ah ma è un'arma te prego ma come te prego grada no penso sia per me la lama della soltron lama circolare scusate un scusate un attimo eeeh c'ho la lama della soltron cioè quella col fuoco si la lama circolare di mister handy e la testa di no vabbè io devo un attimino girare con questa scusate ma datemi datemi un mostro su cui usarla si sta caricando oh mio dio poche radiazioni spara sta a fare e perché è perché c'ha laser comandi porta di sicurezza apri porta una figata vabbè mamma mia dobbiamo farci assolutamente un video sulle armi nuove apri tutto ah in pratica ogni volta che ricarico posso caricare il delirio vabbè adesso il prossimo che becco lo faccio secco malissimo ciao